Allora, facciamo questa gioia! C'è una nuova mappa, che hanno aggiunto oggi mattina E questa è una nuova modalità, si chiama Gunfight Praticamente tutti cominciano senza armi, devono raccogliere le armi e cominciare a sparare Epilogrammi P5 Le regole sono molto semplici Se muori, passi a me il joystick, punto Se muori, ti passi il joystick dopo Probabilmente è l'unico decente Call of Duty uscito negli ultimi 7-8 anni Dove? Dall'alto Si ma che botta eh, mazza Anche lui è proprio un uomo Una statua Oh, una testa di uomo eh Guarda, guarda, adesso non l'ha visto Probabilmente beve l'arancia senza zucchero Testa di cacchio Si è pigliato un proiettino in testa Coglione, no, non è vero Si! Hai visto? Hai visto? Si è morto Come si raccolgono le armi? C'è, ne abbiamo molto quadratta, bro Si è schiattato! No, sei navo! F***! Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Mamma mia che... Nubo! Ok. Però figa, non mi ha già messo due mappe nuove. Io voglio vedere, almeno fin domenica che sarà l'ultimo giorno, voglio vedere almeno una mappa grande. Vai, vai, vai. Ghost aveva le moderità zombie e anche Advanced Warfare. Questo aveva un Deltaliene. Dimensione... Chi è più stupido? Ok, ok. Yes! Fottuto Jenny, passa qua. Bruno C4. Era uno, era uno si lancia. Ma poi si ri... Bruno dietro! No, 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 no! C'è un po' di tactic. Fottita. Oh, oh! Camper! Che camper! Che camper! Ma non perché su Rainbow non sono mai uscito a tirare un C4 bene? Mamma mia! Uguali, uguali! Stessa finestra! Stessa finestra, stesso punto, stesso... Stessa esecutore! Stessa esecutore! Questo Call of Duty è letteralmente tutto quello che io non mi aspettavo dal prossimo Call of Duty è venuto fuori. Per il semplice motivo che io non mi fidavo più di Call of Duty. Quindi ero sicuro che il prossimo Call of Duty faceva cagare il cazzo come Black Ops 4, come Ghost, come Advanced Warfare, come tutti gli ultimi Call of Duty usciti dopo Black Ops 2 e Black Ops 3. Black Ops 3 era l'unico che si salvava un pochino. Black Ops 2 era stupendo. Modern Warfare 2 era capolavoro. Modern Warfare 1 era la leggenda. Tutto il resto faceva un po' cagare. Però tutti avevano qualcosa di decente che, ad esempio, Black Ops 4 aveva la modalità Back... Come si chiama? Black... Black Out. Black Out. Black Ops 4 aveva la modalità Black Out. Advanced Warfare aveva... Infinity Warfare c'era il... Insomma, tutti avevano qualcosa di interessante su qui. Però questo, questo Call of Duty mi piace molto. Nah. Quello fa male, non credo. Quello fa molto male. Non sembra, ma noi siamo gente che viene dal 2011. Storia di Call of Duty vissuta negli ultimi sette anni. Shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Fatta pia. Same shit! Ghost! Advanced Warfare! No, Ghost non aveva essente. Ghost faceva schifo di suo. Ghost aveva con la pistola come un sniper. Anzi, sciuttava di più la pistola. Però Advanced Warfare, Infinity Warfare... Quale era l'ultima? L'ultima? No, un altro che non abbiamo provato è World War 2. Si. Che è da provare. Però questo qua è un capolavoro. Questo è l'essenza di Call of Duty. Ma dai! Non è possibile. No, l'ho ucciso l'altro con il mio. Mamma mia, che stronzata, va. Si, ma con la Desert Eagle è facile. Dai, su. E' lì che ti sta affrontando, dude. No, io... Sinistra? Ah! 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 Stanno giocando in tattica. Sì, va. Su. Rada me! E ti rubansi! F***! Uhhh! What... The fuck!? What did you do, man!? Bro, questo è un... Questo è un cudd. Ti pigli la panze! Ah! Ti ho detto, bro. I can't play these puppies! Sabe che mi piace perché mi ricorda Vicky Cudd? WIIIIII! Ok, l'amico è morto Non quanto la G, ma ho quel cacchio Se tu riesci a uscire a conquistare, vuol dire che è potente F***, man! Che nabbo! Yo, that's not f***ing fair, man! E io ti credo che non sei screatato, vero? Guarda, proprio non vedo il 1-4 là giù, eh? No, io no Proprio per niente, eh? Spam, b***h! Move Eh, sì, questa modalità mi piace un po' di più di quella di raccogliere le armi Oh, è la mappa che mi piace di più Credo sia la mappa Puff, yes! È un'idea stupenda sta roba della bandiera Perché Uno di due andrà sempre lì Si deve correre verso la bandiera e non puoi fare il camper Perciò, yes! F***, mamma mia Camminando! E' dietro il caso, duro Corri, corri Mettiti dietro il caso Si Dura Un, 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 un Si Si Edshot, collaterale, b***h! No, granata! Corres, corri Yes! 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 Oh, oh, yes! Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, è questo misericordio Guarda, è il po' di calcchio Sì, di certo così non lo vede Ecco, hai perso No, ci credo, cazzo, no Stupido, stai a... Fammi vedere dove ho perso Perché hai detto ecco, hai perso Hai perso Perché? Perché tu non dovevi andare nella bandiera Se tu stavi dietro Pallese Ciocio, ciocio, scancos Tutta colpa tua Colpa mia proprio per un cazzo Sì Sei tu che ti metti in mezzo alla mappa come quello Guarda come ti ha ucciso No, 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 no Non mi sparare, non mi sparare Non vedo, non vedo, dov'è Vietro Mamma mia, la sacuma Non ho capito se fai spacca sassi O vuoi fare una partita di couture Secondo me la prossima arma sarà quella Pigliatelo, pigliatelo Stessa vita, porco il cacchio Lo vedi? No Stiamo con un shot Munizione scarsa, hai solo tre proiettili Sì Anche loro hanno le stesse arma che abbiamo noi, giusto? Sì Aspetta di scenda Grazie, l'hai lasciato con un sputto di vita Adesso l'amazzo io L'amazzo io, statua Sono sensibile Scusate Il mondo stava quei tanto Eh, guarda No, non give away, mamma mia No, no, no No Bro, era troppo casuale, è impossibile Secondo il mio parere stanno giocando uno in 4k, due con la Playstation Pro E il tipo ce l'ha dietro Se non esce di là, se non esce di là, se non esce di là Uscirà di qua Se non esce di là, uscirà di qua C'è ritardato Dio, è tutta colpa tua, mi concentri Vai, ti faccio il massaggio Ah no, questa era l'ultima partita Peace